Le riprese di Royal Baby del giorno di Natale sono emerse mentre il Regno Unito celebrava il periodo festivo, mostrando la regina con la principessa Anna e Peter Phillips nei loro giorni più giovani.Il principe Harry e Meghan Markle hanno pubblicato la prima foto della loro figlia Lilibet Diana sulla loro cartolina di Natale. Si può vedere Meghan che tiene in braccio sua figlia Eryd mentre. Arci si siede sulle ginocchia di suo padre. Nessuna immagine di Lilibet di sei mesi, che prende il nome dal soprannome d'infanzia della regina, è stata rilasciata prima d'ora, e la faccia di suo fratello di due anni è stata vista raramente in pubblico. Il messaggio sulla carta recita, quest'anno, 2021, abbiamo dato il benvenuto al mondo a nostra figlia, Lilibet. Arci ci ha fatto diventare mamma e papà, e Lili ci ha creato una famiglia e in attesa del 2022. Abbiamo fatto donazioni per vostro conto a diverse organizzazioni che onorano e proteggono le famiglie, da quelle trasferite dall'Afghanistan alle famiglie americane che necessitano di congedo parentale retribuito, Team Rublicon, Welcome. US, Human First Coalition, Humanity Crew e congedo retribuito per tutti, PL più US, Piano Marshall per le mamme. Ti auguro buone feste e un prospero anno nuovo, dalla nostra famiglia alla tua. Come sempre, Harry, Meghan, Arci e Lili. Questa non è la prima volta che un bambino reale è al centro della scena a Natale. Nel 1978, il giorno di Natale, alla fine del discorso della regina, il filmato mostrava la monarca con sua figlia, la principessa Anna e il nipote di 13 mesi Peter Phillips. Il video mostrava Peter che giocava con uno dei cani della famiglia e la principessa reale che faceva rimbalzare suo figlio sulle ginocchia. E non potrà vedere la regina questo Natale dopo che suo marito è risultato positivo al Covid. La principessa reale si sta isolando nella sua casa di Gatcombe Park con il vice ammiraglio Sir Timothy Lawrence, 66 anni, dopo che gli è stato confermato di aver contratto il virus. La notizia sarà ancora più sconvolgente per la famiglia in quanto è la prima senza il principe Filippo.